Da venerdì a domenica Cupra Montana torna ad essere la capitale italiana del folclore. Ospiterà infatti il 22esimo Festival Italiano del Folclore, organizzato dall'Ufifest, Unione Folclorica Italiana, che raccoglie gruppi di tutta Italia. Cupra Montana fra l'altro è la seconda volta che ospita un Ufifest, la 14esima edizione è stata fatta qui a Cupra Montana. È un onore farlo ancora a Cupra Montana grazie al gruppo Massaccio che fra l'altro proprio quest'anno compie 40 anni di fondazione. L'Unione Folclorica Italiana tiene molto questo evento, in particolare l'Ufifest che rappresentano un po' tutta la nazione italiana, tutto il territorio italiano, infatti sono più di 100 gruppi sparsi sul territorio italiano e con oltre 4.000 iscritti. Saranno 7 i gruppi che prenderanno parte al Festival dalle diverse regioni italiane. L'organizzazione è stata curata dal gruppo locale Massaccio che quest'anno festeggia i 40 anni di fondazione. Quest'anno per noi è un anno molto importante perché celebriamo i 40 anni del gruppo folcloristico, i 40 anni di vita, e siamo riusciti ad organizzare questo Ufifest, non nascondo con tanta fatica ma con tantissima passione. Cupra Montana è capitale, capitale del verdicchio, capitale del folclore, il ballo, la musica, l'allegria, unirà questi nostri ospiti in questa manifestazione e riempirà di colori e di emozioni la piazza. Tutto sarà gratuito, le piazze saranno nel libero accesso, gli spettacoli si svolgeranno venerdì, sabato e domenica. Venerdì e sabato alle 9.30 in piazza 4 novembre, domenica verrà fatta alle 17.30 una celebrazione religiosa in chiesa con tutti i gruppi che saranno in costume, dopodiché faremo una sfilata in piazza con dei balli in piazza Cavour e alle 21.30 di nuovo tutti i nostri ospiti si esibiranno sul palco. Un programma ricco di concerti che coinvolgerà anche i comuni di Belvedere Ostranzi e Fabriano e la conferma di un'attività folclorica che coinvolge anche per fortuna i più piccoli. Per noi è un piacere infatti collaborare con il gruppo folcloristico Il Massaccio che da oramai 24 anni aiuta Cubra Montana a promuovere appunto il suo territorio e le sue tradizioni in tutta la regione e oramai con l'UFI Festival anche in Italia. Attraverso appunto il gruppo folcloristico noi possiamo promuovere le tradizioni sia di balli, di canti e poi anche veicolo educativo appunto per noi il gruppo folcloristico in quanto collabora spesso con le scuole e con i bambini appunto che abbiamo a Cubra Montana. I giovani dunque legati alla tradizione, fatto questo, testimoniato anche da una tesi di Laura ovviamente scritta da una cuprense che ha studiato negli anni i gruppi che hanno partecipato al Festival.